Ok, ti avvii per 7-8 km, a un certo punto ti fermi, ci aspetti e poi scendendo insieme ci fermiamo ogni tanto, io e lui è in un paio di curve e ti vediamo passare. Va bene. Noi ci fermiamo tutti i passi, la curva, poi ti fermi, noi ti ripassiamo, ci fermiamo, c'è il tempo che ti temai. Io adesso vado. Sì, così ti fa un po' già di immagini tu. Noi ci fermiamo. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti